ciao raga eccomi qua allora abbiamo promesso da prima un altro video non di chiacchiericcio si sempre chiacchiericcio ma prodotti beauty e anche casa non lo so cosa c'è dentro vediamo no sono prodotti beauty del genere della persona vediamo un po pochi ma buoni perché se non mi arrivano le moschile ea me non piace allora siete con fate conto che il telefono appoggiato su sotto sopra un cuscino sopra la mia borsa quello che voglio io però almeno è in carica perché si postano messo in carico al telefono perché così almeno non si scarica troppo velocemente quindi almeno per dire a voi che così almeno non perdo di qualità video e tante altre cose comunque prodotti finiti il genere della persona questa mia bella bustona vedete e renderci tutto quanto cominciamo da questo prodotto qua questo vedete della fior di magnolia detergente intimo si con l'estratto di malva dermatologicamente testato per h di pelle questo qua comunque si ce n'è 500 ml di prodotto aspettate un attimo eccomi qua allora vi dicevo 500 ml di prodotto acceso un'altra luce se no non si vede niente e questo è il sapone intimo che mi ci sto trovando non bene di più ora ne ho un altro in uso con cui è della fiume impare non mi ricordo comunque questo è della fior di magnolia fior di magnolia mi ci trovo molto bene e scomito con le parti sono molto delicata quindi non vedo perché non devo utilizzare una cosa come ci trovo meglio delle altri saponi che ci sono in circolazione sì questo qua è fantastico perché fa veramente poca schiuma lava bene quanto deve lavare e mi ci trovo bene quindi questo qua è la 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi quindi questo sapone detergente intimo non fantastico di più molto buono e melava bene quindi top ed è anche molto delicato sulla mia pelle sulla pelle che la dove va bene delicato ok poi vidal vidal ho utilizzato questo talco liquido bagno doccia body wash appunto e cos'è questo 500 ml prodotto per 12 mesi di pao sì 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 la pelle molto delicato comunque tanto dedicato non è perché vado a mettere sempre la crema per crema corpo perché questo qua oltre che mi cerca un po la pelle però profuma un po anche perché deve profumare siano che cavolo di liquido nel talco comunque è al talco liquido alla profumazione buonissima perché infatti mi piace e che dire sì non è malaccio anche se secca la pelle però rilascia un buon profumo di pulito nonostante mi secca la pelle anche se vado a metterci ovviamente la crema corpo delle ulcerine ammetto c'ho una crema delle ulcerine data dal mio dermatologo quindi top fenomenale ve lo consiglio non tanto perché secca la pelle c'è anche piace come sento dire parecchi pareri qua sulla piattaforma di youtube quindi se mi piace prego ma non mi fa impazzire ma preferisco ben altri tipi di bagno schiuma come quello del dav o mantovani o altri tipi di saponi comunque anche questo non è malaccio dai poi altro bagno schiuma dav no che dav vital al vital body wash tonificante muschio muschio bianco e non è testato sui animali come sto leggendo qua global animal test polis hydra derma quite complex e poi 500 ml prodotto sempre la scadenza ovviamente dell'apertura 12 mesi vi sono e anche questo non è male dai ha un'ottima profumazione però anche con questo ci va adotta cauta molto cauta perché con questo un po da mettere la cremina al corpo delle ulcerine che rilascia una buona schiuma anche questo come quest'altro qua vi dicevo però mi piaceva non mi fa volare devo dire la verità non fa volare ma non è malaccio con per funzione rilascia un buon profumo su tutto il resto del mio corpo non persiste perché è vero non persiste però va bene così mi soddisfa ma non tanto da volare dai mi piace ma non tanto tantissimo da volare della vita non tantissimo che significa che mi piace ma non mi fa impazzire dai ecco tutto poi poi un ultimo prodotto si l'avete intera visto prima prendiamo l'altro lister in difesa denti e gengive triplazione riduce efficacemente la placca della placca e rinforza 2 i denti e 3 protegge dall'infiammazione gengivali 500 ml di prodotto menta fresca e poi costava 6 euro 90 questo coltore costa 6 euro 90 non so se l'ho preso in farmacia oppure ad acqua e sapone boh non saprei comunque mi piace e fa una fresca profumazione in generale mentolata buona mi piace perché lo preferisco certi altri colluttori che ho provato attualmente quindi questo qua cosa vi dico di più è il migliore buono top quanto ce n'è vi ripetisco 500 ml di prodotto menta fresca e anche il prezzo ve lo ridico 6,90 top fantastico poi la profumazione non è male mi ha appena detto perché sarà di eucalipto molto buono poi non per ultimo ma neanche per importanza perlier fiori d'arancio con conca d'oro doccia schiuma orange blooms fiori d'arancio allora fiori d'arancio dunque cosa dire c'è doccia sì non è male dai anche qui non mi fa impazzire però mi ci sono lavata tranquillamente anche qui non è che faccio salti di gioia però mi è piaciuto lo ricomprerei non lo so perché sicuramente potrei continuare ad utilizzare sia il dav che il mantovani che poi non trovo perché non so dove andare non saprei dove andare a reperirlo ma potrei andare a reperire o vidal o il palmolive che lo usavo sia mia madre che mia nonna ma preferisco usare il dav al momento sta diventando mio amato dav e mio preferito quindi andiamo col dav quindi non lo so questo qua 250 ml sì mi è piaciuto ma non da farci le feste sì me l'ha regalato mesi fa mia zia quando ho fatto il compleanno se non erro o il natale e l'ho riacquistato perché mi è piaciuto il profumo non l'ho riacquistato perché se prendi tutto a sete ti costa una banca di soldi quindi no però questo lo volete riacquistare perché con profumazione ci siamo è la mia preferita mi piace e allora quello profumo era il muschio bianco se non erro sì mi sa di sì però questo è alle scorce d'arancia e non è fiori d'arancia scusate fiori d'arancia made in italy e non è male per l'era per l'era è ottimo per come profumazione ma non saprei forse avrei puntato più sul palmolive come ho appena detto ma forse non ha un salto di nuovo a questa poi c'è la parola ma più la per adesso può stare dove questo sapone costava bagno doccia e nulla ragazze questo era tutto io ora li metto tutto qua dentro e vado a fare la mia belletta raccolta differenziata indifferenziata scusate ho tutte le mani bagnate l'esce di non so quale cosa fosse un bagno doccia e e basta ragazze poi mi ha bagnato tutto no che sembrava comunque ragazze io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo un prossimo video ciao ragazze una bella c'è virtuale un bacio e like il commento iscrivetevi e se vi va attivate la campanellina per lasciarmi perdere oppure continuate a guardare i miei video ciao a presto a dopo vi sarà video dei prodotti preferiti prodotti non lo so se preferiti o che altro vediamo a sorpresa non li carico tutti oggi se no non ce la faccio o solo le carico in privato le pubblico più l'anno lo so vediamo ciao